Tredicissima giornata di ritorno del campionato di Serie A con la lotta europea clamorosamente riaperta. Dopo la sconfitta della Roma sabato, la Lazio non è andata oltre il pareggio contro il Chievo per 1-1. E di ciò ne ha approfittato il Napoli che nelle postici forse rale ha battuto la Sampdoria con il punteggio di 4-2. Clamorosa sconfitta per la Juventus nelle derby contro il Torino, vittoria del Granata per 2-1 dopo l'iniziale vantaggio di Pirlo. Il pareggio di Darmian e poi la bella rete di Quagliarella nella ripresa. Il Parma continua a chiudere la sua stagione in positivo al Tardini, vince per 1-0 contro il Palermo grazie al rigore di Nocerino. Per quanto riguarda la lotta salvezza, Atalanta-Empoli finisce 2-2, Genua-Cesena 3-1, mentre la Fiorentina cade in casa ad opera del Cagliari con identico punteggio.